Padalino dice di no, magari ha più esperienza di me di padel, ma per me il padel è uno sport di mascolinità tossica nettamente che tende a escludere le ragazze. Io dico questa cosa che è forte ma io vedo solo gente di mezza età che scappa dalla famiglia. Io però con tante donne gioco. Tu sei di mezza età o scappi dalla famiglia? Tutte e due.